Anche l'export ha iniziato a dare segnali preoccupanti. L'analisi della CNA sull'esportazione in provincia di Pesorurbino è infatti fortemente negativa. Nei primi sei mesi del 2023 rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente, l'export pesarese è infatti diminuito del 3,7%, mentre nello stesso periodo le marche hanno aumentato l'export del 18%, in una crescita però viziata dalla performance del farmaceutico di Ascoli Piceno. Per il direttore provinciale di CNA Claudio Tarsi la flessione è dovuta soprattutto al calo dell'export manifatturiero che annota 57 milioni in meno, seguito dal calo dei prodotti dell'agricoltura con 10 milioni in meno. Tra le manifatture risultano in calo soprattutto l'esportazione di prodotti in metallo, dove c'è una netta frenata delle esportazioni verso Germania e Francia. Preoccupante anche il calo di 6,7 milioni nell'export di mobili. In controtendenza invece le esportazioni dalla provincia dei prodotti del sistema moda in crescita di 16 milioni, dei prodotti in gomme plastica di quasi 9 milioni, in una crescita analoga a quella delle esportazioni di apparecchiature elettriche.